Buonanotte in Lombardia, la musica toscana in Lombardia finalmente. Bene, inizio il programma. Dall'imperiale di Tisegna la musica alla veglianoccia 30 se liama Paolo Kigner. Buonanotte per stare in cene, buonanotte. Buonanotte per stare in cene, buonanotte. Come, come, come? Come, come, come? Come, come, come? Come, come, come? They started up to... Joe Milano! Sì! Lui magari non lo conoscete. Lui è il più grande vocalist che esista. Lui è Franchino! Musica! Musica! Ritmo! Ohhh, dia, ya .. Ros! I love you, I love you! Un ringraziamento naturalmente dall'organizzazione San Franca, oggi 9 giugno, volevo ringraziare la security, il bari, il bari, il bari, la scella, la mia azione, i ragazzi e i merci in fronte a scana e tutti voi che siete infedeli amatori della good, 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 good Grazie a tutti Paolo Quiguitre Paolo Quiguitre Paolo Quiguitre Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non stateci vicino! Non stateci vicino! Per il ricolo di morte. Non stateci vicino! 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 Grazie a tutti. 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 Non ci fermeranno mai 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 Grazie, grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie. Grazie, 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 grazie. Grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie. 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 Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie. 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 Grazie, grazie. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. I gelati sono buoni, te lo dicono, Franchino e Francesconi. Si trova un amigo, trova un tesoro. Chi trova un amico, trova un tesoro. Allo qui dice. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501